Ho chiesto alla mia ragazza di sposarmi, vi fareste un quadro che si illumina al buio e che ci rappresenti? Quando ho letto questo commento mi sarebbe venuto distinto rispondere come faccio a farvi un quadro che vi rappresenti se non vi conosco? Poi però ho pensato che l'amore non ha bisogno di volti per essere rappresentato. Credo che l'amore sia universale, amico del destino, è un'energia vagante che ha il compito di collegarsi come spine gli uni con gli altri. Ed è travolgente perché si cambia letteralmente la vita, colore al mondo ed ha un senso a tutto. Quando è puro è la cosa più bella che si possa capitare. E al contrario può essere triste in ugual misura quando e se decide di lasciarci. Credo che tutti siamo in attesa del nostro turno, a prescindere da ogni altra cosa che stiamo facendo nella nostra vita. E se posso darvi un consiglio, siate a voi stessi e restate umili. Altrimenti state sicuri che vi cercherà, ma non vi troverà. In quanto al ragazzo che ha scritto questo commento, ti faccio i miei auguri e spero che il quadro ti sia piaciuto. Grazie. Grazie. Grazie.